Pupazzi giochi in scatola manchi libri e materiale per disegnare sono tanti doni raccolti attraverso il progetto ribattezzato un giocattolo sospeso si tratta di un'iniziativa messa in campo dall'assessorato al commercio del comune di pavia che permette a chi lo desidera di acquistare un dono di qualsiasi importo e lasciarlo presso uno dei punti vendita che aderiscono al progetto. Ancora qualche giorno per questa bella iniziativa potete recarvi nei negozi che hanno aderito e comprare un gioco per un bambino meno fortunato e lasciarlo presso il negozio. I nostri operatori passeranno a ritirarli e tramite la parrocchia di San Primo verranno distribuiti appunto a tutti i bambini. Sono 12 in totale i negozi di giocattoli del capoluogo che hanno deciso di aderire all'iniziativa anche quest'anno, un progetto realizzato per rendere più dolce il Natale di tanti bambini in difficoltà. Approfitto dell'occasione per ringraziare i tanti cittadini generosi che hanno acquistato tutti questi bei giocattoli e per porgere a tutti i miei migliori auguri di Buon Natale e di un felice 2024.